e ciao a tutti ragazzi di youtube sono io sono il vostro sermatix90 e ci troviamo qui in un nuovo fantastico video e oggi sono qui per presentarvi call to arms allora cos'è call to arms call to arms è praticamente un gioco strategico in tempo reale ambientato nella guerra moderna allora call to arms nasce come mod di man of war 2 praticamente dove poi gli sviluppatori l'hanno hanno deciso dopo tanta richiesta di tanta gente di praticamente di farci un gioco a parte che attualmente è in versione alfa acquistabile su steam alla cifra di 19 euro per il momento e 27 per la versione digital deluxe come già detto è in versione alfa quindi ancora ci saranno tante modifiche faranno ci lavoreranno quindi ci saranno un sacco di c'è un sacco spero di no ci saranno molti bug come giusto che sia per le versioni alfa dei giochi che sono in fase di sviluppo quindi il gioco attualmente è uscito ieri il 30 di luglio e quindi voluto far subito video per presentarlo un attimo oggi praticamente non farò una partita completa vi farò entrò in una partita e vi mostrerò al volo insomma come le cose poi dopo più avanti farò un gameplay cosa più che altro è solo la recensione ora per adesso andiamo ad analizzare il menu di gioco allora attualmente il menu di gioco è veramente per chi conosce meno for è veramente veramente quasi identico a quello di meno for se non per lo sfondo quindi abbiamo in alto a destra qua su abbiamo il nostro nome del profilo collegato a steam il nostro livello e qui per niente la nostra esperienza il punteggio e qui abbiamo le fazioni che stiamo utilizzando come vedete la cosa carina è che a seconda della fazione che selezioniamo ci cambia lo sfondo attualmente in questa in questa versione del gioco abbiamo solo due tipi di fazioni i usa gli americani e questi che dovrebbero essere tipo ribelli barra russi di cui ancora non ho ben capito ma che andremo analizzare più avanti poi abbiamo il single player che è praticamente lo stesso identico modo di meno for dove abbiamo la nostra campagna selezionabile tra cui adesso c'è solo quella americana e due missioni attualmente sono disponibili quindi per andare per fare la campagna è così insomma di solito meno for è molto bello era molto bella praticamente perché c'era una gran vastità di campagne e di tutti i tipi di fazioni cose che nei giochi adesso vi parlo di meno for dopo un'altra cosa diversa era bello perché c'era un sacco di fazioni cose che molti giochi molti giochi non ha messo a seconda guerra mondiale come giapponesi e roba del genere quindi spero ovviamente che anche per call to arm sia la stessa cosa perché nella mod c'era veramente tante tante fazioni la cosa bella che ha messo call to arm arm scusate è che c'è la possibilità come su meno for di inserire mod un sacco e in più è collegato allo steam workshop quindi vedrete insomma gente che caricherà un sacco di cose vari contenuti vari campagne missioni mappe unità tantissima tantissima roba è una cosa bellissima lo steam workshop perché veramente ti rinnova tutte le volte con i nuovi contenuti anche livello di mod ti rinnova completamente il gioco tutte le volte ma andiamo avanti andiamo nella parte multiplayer che abbiamo il replay la partita lan che presenta nel locale come sarete anche se non so spiegarvelo è l'internet ora noi andremo nel lan per ora e la cosa bella che hanno inserito su call to arm che tanta tanta gente stava aspettando era la possibilità di inserire dei bot perché qual era il problema nella mod di man of war che non potevi fare una partita in locale meno che non ti mettevi nell'editor del gioco e allora ti creavi la tua missione un po' così qua l'hanno inserito quindi come fare per andare basta andare su new game per fare una partita locale selezionate il tipo di missioni che attualmente è domination last man standing e cooperativa selezionate la mappa che attualmente sono 5 quindi ragazzi è uscito ieri il gioco non possiamo aspettarsi di tanto tantissima roba quindi selezioniamo la mappa secondo i quanti giocatori vogliamo insomma la prima è da 2 poi saliamo a 4 qui potremo selezionare il numero di giocatori che vogliamo mettere fino a un totale di questa che ne ha 8 noi saliamo a scala 2 e andremo su create praticamente su create andremo in questo menu di gioco dove in alto c'è il nostro nome e la fazione che abbiamo selezionato il team per inserire un bot basterà fare tasto destro su enfi e selezionare il giocatore se vogliamo mettere il livello eroico, difficile, normale o facile noi mettiamo facile ma attualmente ci interessa poco poi qui abbiamo il nostro player name che possiamo modificare ma non ci interessa qui selezioniamo la fazione da inserire sia nella squadra A che nella squadra B adesso mettiamo USA, unità tutte, mettiamo per ora e punti di vittoria mettiamo 10.000 dopo volendo uno se vuole può anche mettere custom e potete selezionare come volete cambiate completamente tutti i tipi di settaggi per la partita ma naturalmente non ci interessa comunque adesso tornatemi indietro che vi faccio vedere anche tutte le altre cose e poi dopo andiamo direttamente sul gameplay comunque qui abbiamo il tutorial per chi non conosce il... chi vuole imparare a giocare insomma che non ha mai giocato io attualmente ho già giocato quindi non ne ho bisogno si sono un fottuto pro e ci sono vari tipi di insomma di tutorial che poi vedrete se lo vorrete contenuto questo qua ancora non posto perché sono offline abbiamo le guide per scaricare il contenuto penso che si colleghi allo steam workshop poi andiamo alle opzioni il video come volete insomma naturalmente sto giocando quasi tutto su alto comunque non ho voluto mettere ultra non so neanche come sia poi qui abbiamo il workshop perché ovviamente qui avremo tutto l'elenco di tutte le cose che abbiamo che siamo iscritti contenuti scritti sul workshop e quale mod che abbiamo inserito praticamente tramite anche fuori il workshop scaricato dopo comunque lo sapete e credete niente allora adesso andiamo subito a farvi vedere il gameplay quindi andiamo a creare la partita come abbiamo detto domination ok mettiamo punti di vittoria qualcosa di più noi faremo gli USA mentre gli altri faremo i terroristi non so sono terroristi tipo mischiati russi e non ho ben capito questa però andiamo a vedere noi selezioniamo la nostra fazione basterà che fare doppio click su dove vogliamo andare e faremo ready ok ci siamo start eccoci ritrovati in gioco praticamente allora attualmente come potete vedere anche la mini mappa non si vede attualmente siamo in pausa perché siamo nella fase di preparazione dove ognuno si prepara insomma che dura qualche secondo ma serve a poco insomma come potete vedere ancora in versione alfa non c'è neanche una mini mappa da vedere alcune cose sono buggate anche visto la campagna però praticamente come ho già detto sembra è molto simile cioè praticamente quasi uguale alla moda è una moda prese fatta da un gioco a parte allora come funziona per chi non conoscesse anche il mondo di man of four già stanno conquistando un punto come funziona a differenza di company of heroes che praticamente per giocare per avere unità bisogna creare differenti basi meno for come adesso anche coltuale si basa su tutti dei punti che si fanno praticamente conquistando basi e via dicendo praticamente simile a total war sempre fate punteggio solo che total war si prende si fa un punteggio dall'inizio della partita un punteggio e poi hai quella unità e basta invece qua in continuazione a seconda continuate a fare punti in continuazione per sponare soldati e via dicendo come adesso ho fatto sponare i miei soldati che mi sono pagati 120 mp che abbiamo qua sotto ok e la cosa figa di coltuale come anche per man of four è il fatto che potrete potete sia impersonare ogni singolo uomo che comandarne ogni singolo cioè non è come company offrire su tanti giochi strategici anche total war che avrete a vostra unità e avete formato le cinque potete e dovete muoverli tutti contemporaneamente qui invece è diverso voi potete prendere ogni singolo uovo e muoverlo come più vi piace ad esempio vogliamo che questo stia qua dietro muoviamo solo lui se vogliamo che questo si muova invece solo qua dietro muoviamo lì se questo lo vogliamo di qua lo mettiamo di qua e così e via dicendo come anche il capo però se selezioniamo il capo si muovono tutti quindi per far sì che muoviamo solo uno basterà selezionare il capo mettere in un punto poi di conseguenza selezionare gli altri e metterli a parte e la cosa bella anche il disco anche il discorso dei ripari che potete mettere le unità ripararsi in ogni cassa casa edificio e via dicendo poi la cosa anche come dicevo anche questa molto bella sia di man of four call to arc come dicevo potete impersonare un personaggio praticamente basterà selezionare un uomo premere il tasto e e come vedete cambia avremo quel avremo il mirino e un palino rosso e verde siccome anche adesso vi spiego come funziona con vs a di muoveremo il nostro personaggio con il mouse ruoteremo ruotiamo praticamente il personaggio la visuale del personaggio e poi avremo questo mirino che indica un numero e vedremo palino verde rosso che va a seconda se il bersaglio può essere raggiunto oppure no praticamente ad esempio se avremo un avversario dietro un riparo il punto verde indica dove arriva il colpo il punto rosso invece è dove ad esempio non arriva il colpo che quindi non può essere colpito la cosa è molto molto comoda per il fatto che molte volte e quando la intelligenza artificiale del gioco quando ad esempio dai un comando a un'unità molte volte è bagata o non ci arriva o magari perché proprio l'intelligenza non arriva a colpire quella determinata unità così allora uno prende anche con i mezzi può comandare direttamente e insomma decidere ognuno come colpire e si gestisce praticamente manualmente e la cosa molto carina poi avete visto sopra c'è un'unità che già sta considerando i punti ma a noi non ci interessa poi andremo andiamo a vedere il menu praticamente questo qua è il è il menu dove abbiamo tutto l'elenco delle nostre unità disponibili attualmente abbiamo solo fanteria purtroppo quindi per sponare basterà selezionarli e cliccarci sopra se si hanno i punti noi attualmente non abbiamo ancora punti in più perché l'abbiamo usato sulla base ma ci sta aumentando di 1.4 quindi siamo a 387 volendo possiamo fare gli us marine e li facciamo sponare qua che sono mitraglietti, praticamente mitragliettrici pesanti e quantità di supporto poi andiamo avanti qui c'è vabbè c'è il menu tutte le robe le casse abbiamo l'inventario perché si in menu fore anche quindi di conseguenza in call to arms ogni personaggio ogni uomo ha il proprio inventario perché? perché praticamente in menu fore potrete in menu fore scusate in call to arms come in menu fore potrete raccogliere tutte le armi e gli oggetti che hanno gli avversari praticamente quindi potete luttare anche i cadavere ad esempio avete un vostro uomo che è ferito se c'è un nemico o un alleato morto potrete andare a luttare il proprio cadavere per trovare magari delle bende per curarvi o non avete punizioni potete prendere gli arma e prendere munizioni come bazooka come attrezzi riparatori per i veicoli perché anche qui i veicoli si danneggiano e via dicendo basterà cliccare sull'inventario e vi apparirà questo qua l'inventario del vostro personaggio che qui il nostro ha le m27 ha due granate, 5 bende, il fumogeno, la pistola e il coltello attualmente qua potete selezionare cosa fare e tenere in mano il vostro personaggio ad esempio adesso ho zoom per farvelo vedere se clicchiamo sull'arma e clicchiamo la pistola il vostro personaggio impugnerà direttamente la pistola come se in conseguenza le mitra come anche il coltello per andare silenziosamente o come anche le granate e questa è una cosa veramente che a me piace un sacco questa lo stesso discorso si può fare con i veicoli, si possono luttare anche i veicoli quindi ogni veicolo potrà avere armi, munizioni, bende e via dicendo andando avanti poi questo è il menu che vi dice per lanciare, usare armi oppure vari tipi di attacchi poi qua sotto avrete praticamente l'elenco di tutte le unità selezionate e la loro rispettiva vita poi di qua invece abbiamo il classico menu che vi dice tipo per attaccare un punto per non muoversi eccetera eccetera però in compenso qui avrete anche l'elenco degli accessori che avete inventato da usare come ad esempio per riprendere la vita e le bende o la morfina o la dinamite cioè la dinamite nel senso l'esposio se ce l'hanno oppure se volete che levi l'arma o che l'occhio sta per esaminare quindi controllare, luttare i cadaveri come ad esempio questo veicolo che vedete ha la benzina e ha un repair kit oppure per luttare i cadaveri mentre la chiave inglese è per riparare i veicoli se avete l'apposita attrezzatura come c'era dentro questo veicolo il repair kit praticamente ok la partita è finita perché continuate ad andare avanti siccome era una partita domination quindi di conseguenza chi fa più punteggio qua sopra che arriva prima 100 vince ok se no per il resto ho notato che ancora il gioco è completamente uguale cioè completamente uguale è veramente molto simile a Man of War 2 quindi praticamente è la mod però fate in modo che non devi avere Man of War per avviarla però in compenso io ci credo in questo gioco anche perché è uno dei pochi giochi strategici in tempo reale che ha come base diciamo come tempo l'era moderna quindi ci spero che porti in avanti questo gioco e lo credo e lo porti in avanti bene che dire di questo io direi di concludere qui il video perché era diciamo un video un attimo per spiegarvi al volo le cose insomma non volevo perché volevo lasciare e volevo iniziarsi diciamo una serie magari anche con altri amici che lo prenderanno insieme a me per provare a farvi vedere proprio i gameplay le partite di questo gioco perché ci credo veramente quindi era solo un attimo per farvi vedere per spiegarvi un po' le cose al volo anche per chi non conoscesse il mondo di Man of War quindi ragazzi direi di concludere qui il video qua fare a vedere le statistiche della partita ma vedremo direttamente la prossima volta il tutto quindi come sempre ragazzi io vi saluto ci vediamo al prossimo video come sempre se il video vi è piaciuto lasciate mi piace commentate se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi dalali A presto A presto